bella ragazzi sono delux e siamo oggi qui tornati incredibilmente con un nuovo video in ufficio insieme a droid e al nuovo ron perché col 2023 fa ritardo peggio di nuovo assurdo è arrivato per ultimo ciao ragazzi veramente 5 minuti di ritardo grande teo sei il numero 1 e porco 2b oggi siamo qui per ah l'anello mi sei conficcato nella pelle si si tantissimo è come la mamma con gli anelli ti picchia ma si fa male quando ero troppo vicino ho visto che c'era un anello e non ho fatto in tempo a fermare come mai siamo qui oggi allora oggi siamo qui con un video un po' particolarmente nostalgico perché visto che è arrivato un nuovo anno in realtà si va avanti ma vogliamo anche tornare indietro per ricordare ciò che è stato bello torneremo indietro del tempo facendo delle reaction a dei vecchi video allora 4 anni fa la bomba spacca cervello hai il mio video? questo me lo ricordo perché era il primo kecknam ah si te posso dire che qua c'è solo la barba più corta sei completamente identico mi stai dicendo che non sto invecchiando quindi sono semplicemente gli occhiali mi invecchiano un po' e la barba? probabilmente l'unico che sembra invecchiato sono io che ho la barba gli occhiali e la barba mi invecchiano un po' presidente? ma tu sì che avevi 12 anni tu c'hai 13 anni ma mi toglie la barba ragazzi posso dire che è vera porca troia mannaggia il cazzo ma quanti anni ci abbiamo messo per levare il blu yeti? un po' cioè sì guarda quanto è brutto sembra che ma poi è luminosissimo è proprio bianco e poi sembra il tuo pene sembrava una flash magari magari sì guarda che schifo sì abbiamo sconfinato non dirlo devono pensare che invece siamo ricchi ma devono pensare che abbiamo fu così otto uffici dopo quattro anni dopo otto uffici dopo garantiamo che non sono i soldi che ci fanno cambiare uffici è proprio forse la mancanza già è proprio non paghiamo niente quindi comunque cosa facciamo oggi innanzitutto un bel like lo vorrei perché mi piacerebbe che supportaste al meglio quanti like avevo non abbiamo chiesto i like lo chiederò un po' così vediamo i stessi like di questo video divertimento oggi giochiamo alla bomba non hai chiesto i like? ho chiesto un like io io non ho mai giocato e per questo video ne lasciamo 25 mila parola a caso poi dice che non capisce i giochi va come stava conciato e un dado sì ma non batti ragazzi ma è il sole di Adams non batte alle balpe ma si è ripreso ma ha detto dove sono? cioè guarda secondo me dove sono? si è preso con qui? spento è tornato a spegnersi tra gaming di divertimento oggi giochiamo alla bomba sì i veri fan me la godo odor odor quello di Game of Thrones odor h odor odor quello di Game of Thrones è un nome di persona proprio no perché è un nome che non è colato secondo me la vostra relazione di coppia negli anni è peggiorata azi azi oddio non puoi dire gli sdani fazione ragà stavo per dire la stessa frase non si può dire non sei cambiato di una virgola nel tempo c'è sempre un sdani il vuole after movie me la godo romics 2015 questo l'ho trovato io e posso dire questo qua è proprio emblematico è emblematico ma è sette anni fa ragazzi sette anni fa allora famo così contiamo i deceduti vabbè zima siamo sopravvissuti in tre tutti gli altri sono morti nel senso morto 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 resuscitato rimorto resuscitato di nuovamente questo è morto sicuro vabbè minchia giovincel bello come il sole mamma mia morto su internet cioè nel senso non fa più mamma mia resuscitato resuscitato diversamente non lo so morto immagino mamma mia gabbo vive ancora vivo gabbo vive che è uno slogan diverso marzone coi capelli morto falsa che si aveste uguale dal 2014 cioè si è ha la stessa skin sembra che tipo è tornato indietro nel tempo già lì mi ricordo che i tempi non avevo le gambe per cambiare direzione ed erano sette anni fa l'attine sdrogo l'attine sdrogo ce l'ho ancora oddio era oddio Jimmy fotografo Jimmy skin fotografo questa è l'anno in cui si è imbucato perché non era non non c'aveva il bietto lui si è imbucato me lo ricordo ancora quando è entrato è l'anno del dinosauro e che c'aveva un boomerang blu che lo lanciava e tornava sempre indietro ovviamente un boomerang e lui in macchina forse c'era qualcuno che si stava drogando sono abbastanza sicuro e i fumi avevano avevano fottuto Jimmy e cominciava a dire oh un dinosauro era un boomerang i grananas ragazzi ma che tavolata era stranissima prima ti andiamo a comandare lì quello vicino a Ione Gianmarco certo capello lungo Johnny Creek la chiesa al centro del villaggio eccoci qua le sdrogo corse allora numero uno posso dire posso dire allora prima di queste c'erano le corse che abbiamo fatto con Zamp ogni vanni su GTA 4 però non sono riuscito a trovarle queste sono ufficialmente le prime sdrogo corse di otto anni fa ma non c'ero io mi sa qui quindi se vogliono le sdrogo corse prima dell'intro sdrogo corse io metto la Batistronzo sai che microfone voglio qui? quello dell'iPhone sembra vi ricordate il Games Week dove appena ci aveva regalato le cuffie di cost? le cuffie sì sì Ace Gamer ma questo l'abbiamo fatto l'altro giorno con questa gara cioè non è che la cosa che mi fa super ridere di questi video vecchi del sdrogo corse è che ci stupiamo di cose di cui adesso diciamo che palle tipo ah bellissima questa gara ma era una bolgia c'è otto persone con una traccia sola con tutte urla ah qua mi sa che va addobbato qualcuno mi divertivo un sacco stai è stronzo sta cosa la fai ancora adesso tu eri già verde io ero sempre stato verde sempre verde sto vizio di fare il deficiente ce l'hai sempre avuto sempre incredibile non è cambiato otto anni non è cambiato niente questo secondo me è stato tre anni fa uno dei video nostri in cui mi sono più divertita che di te ma avete fatto partire la cosa di Avengers adesso? sì che cazzo avevo in testa? ma che c'hai in testa? c'è le onde? ma da dove sei uscito? dall'Hollywood? ma che è? tavolo più drink 70 euro vergognoso ma non mi avete detto niente me l'avete fatto fare ah questo guarda che bello era il periodo in cui Michelle non aveva scoperto che poteva parlare quindi era totalmente in silenzio non dirà una parola probabilmente 50% dei matrimoni oh ronon point eh un mostro sembra stato troppo forte in questi giochi i matrimoni finiscono in incesti di chi ha vinto dai 4% dei matrimoni finisce negli amish per colpa di negli amish finisce casualmente suggerendo un trizzo vince comunque l'incesto vince l'incesto vince l'incesto già lo sai secondo posto fratei c'ho la maglietta del camerun ma che taglio che avevi anche te lì totale eh un po' simile a quello che ho adesso Gabbo comunque non ha mai avuto una divisa da gioco a calcetto ne abbiamo fatto anche un altro i due contro due però tre anni dopo questo è il primo guarda con le giatria guarda guarda oh Gabbo un mostro guarda che cazzo delle cose clamorose andavamo lenti ma per oggi è velocissimo guarda che tripling la crocchetta la crocchetta una puttana era era una puttana bastito una gran performance anche qua ragazzi ma siamo fuori dal mondo ma come imbruttisce poi guardalo guardalo a tre all'ora guardalo guardalo stai sbagliando eh si Gabbo è infortunato? che faccio? cos'è quella roba? ma che è pagliacciata qua ma che schifo ma che cos'è? c'è la gente che sta morendo in campo ragazzi e Roma a prendere il pallone no 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 è è proprio in full try armo ancora una troia una troia ha cambiato la troia no raga ma aveva fatto malissimo non si vede vedi lì quando alza la gamba con i tacchetti mi ha tacchettato il ginocchio che Ronaldo Chop clamorosa da quell'altro che fa senza pietà senza pietà chi è? ma qua entra Daniele in battaglia in battaglia ma con i capelli ma in battaglia con i capelli ma in battaglia con i capelli ma in che senso? vabbè ragazzi io me ne frego intensamente voglio andare a fare gol e fa mi sa che ti uccide bene grazie un po' una lacrimuccia è scesa però vedendo chiudendo con questo video di calcetto è stato interessante come cosa secondo me bene spero che questo video vi sia piaciuto mi auguro anche che vi sia scesa una lacrimuccia anche a voi per quelli che ci seguono da tanto tempo e niente ci vediamo con un prossimo video da Deluxe è tutto ciao ragazzi ciao ciao